Il PD abruzzese rilancia la contrarietà verso l'autonomia differenziata voluta dal centrodestra, diventata ormai legge. Lo ha fatto anche ieri con la presenza del senatore Alessandro Alfieri all'Aquila, una scelta che spacca il paese e umilia l'Abruzzo per il PD che porta la battaglia direttamente sul territorio. La direzione è quella di lanciare la raccolta firme per il referendum abrogativo. Il PD abruzzese contesta anche al presidente della regione Marsilio e al sindaco Biondi di non essersi opposti, come hanno fatto governatori e sindaci di altri territori. Vogliamo dare la parola al popolo, alle persone in carne ed ossa, quelle che saranno fortemente e brutalmente colpite dall'autonomia differenziata perché l'autonomia differenziata approvata in Parlamento avrà come conseguenza la postazione di risorse sul nord che è produttore di pill e quindi sacrificherà i servizi del sud. Alcune regioni del sud governate dal centrodestra hanno alzato la voce, non ha alzato la voce il presidente Marsilio che ha invece assecondato il disegno nefasto del governo. Ora la parola noi vogliamo che passi alle cittadine e cittadini, quindi raccoglieremo tante tante firme affinché si possa fare un referendum abrogativo di questa norma che spacca il paese.